Borgo a Mozzano, il primo paese della Valle del Serchio, è famoso per il ponte della Maddalena, conosciuto da tutti come il ponte del diavolo. Il muratore, preso dallo sconforto per non riuscire ad ultimarlo, chiese aiuto e invocò Satana, il quale glielo accordò e gli promise di costruirlo in una sola notte, in cambio di avere però l'anima del primo essere vivente che lo avrebbe attraversato. Il capomastro decise di ingannarlo e lanciò una focaccia per far passare per primo un cane. Satana decise quindi di modificare la forma rendendola così bizzarra ed asimmetrica. Da questo luogo così ventoso vado e ci vediamo alla prossima tappa. Se non cadessi sarebbe meglio.